buonasera a tutti eccoci alla quinta registrazione di balasso contro tutti buonasera balasso che non c'è sarà al cesso o magari a farsi i cazzacci suoi e tornerà sicuramente ubriaco eccolo qua buonasera balasso credo che questa sia la chat più finta che mi sia mai capitato di vedere in ironia ci vogliono tutti imbecilli e ci stanno riuscendo benissimo a furia di iniezioni quotidiane è un continuo richiamo al vaccino contro l'intelligenza ditemi d'altronde come si può non diventare deficienti quando tutto il giorno dalle televisioni dalle radio dai video su youtube ci parlano con queste voci qua senza sali d'alluminio ti tocca sei testimonia per una pelle fresca e asciutta tutto al giorno crema alla nocciola e tanto latte in un biscotto di va con la bella stagione si ha più bolle di freschizza non c'è scampo il grande piano per rendere idiota l'umanità sta riuscendo alla grande dobbiamo adeguarci allo standard dell'idiozia tornando da capo wasemarne insomma il calo per testa di rapa dalla morte di volta in poi essendo in misura di due dita 100 grammi per testa di rapa circa in media presso poco cifretonde pesonetto spogliato in normandia non si sa perché insomma per farla breve poco importa infatti parlano e considerando d'altra parte il che è ancora più grave luigi meneghello è stato uno degli incontri più emozionanti che ho avuto stessa predica ma dal prete del feo tre chilometri più su in linea d'aria sai lo cosa sto inferno mi ha ancora ancora una branchinella a cosa che ha contato i graniti a gara questo contare la metà ora gara questo e gara contare un migliore e mezzo ma sai che ho finito questa branchinella se monica una presa da ieri e mi era lì perché lavorava pensare che a me testa lavorava se invece dei graniti dei sabion che fosse anni tutte le branchinelle dei sabion che c'è sto mondo e le carità dei sabion e le montagne dei sabion le spiaglie del mare oltre incaucale tutto un sabion un giorno mi chiama gianantonio stella e mi fa senti palasso posso citare un tuo peso che ho sentito in teatro quello là che parla dei somari dei sumeri semiti per un libro che sto scrivendo ci sono artisti che dicono io scrivo per me stesso questa è una grande ipocrisia perché se tu scrivi per te stesso poi le cose te le leggi da solo non rompi i coglioni a tutto un mercato a un sacco di organizzatori non fai pagare biglietti libri dischi se lo avevi fatto solo per te stesso no quindi si scrive un'opera di teatro per un solo motivo perché qualcun altro la guarderà insomma queste fabbriche reimpastano i bicchieri e ne fanno altri nuovi e così le bottiglie i tappi tutto il resto queste fabbriche garantiscono il lavoro a molti operai capisce operai che possono mantenere le loro famiglie grazie a questo lavoro e quindi c'è un problema di fondo lo capisce anche lei un problema che deriva da come è organizzata la vostra economia perché se queste fabbriche sono stimolate dai vostri meccanismi di crescita obbligata devono produrre sempre nuovi oggetti e sempre di più dovranno avere cioè sempre più materia prima ma la materia prima sono i rifiuti capisce bisognerà produrre sempre più rifiuti si senta non è che il videoregistratore in stand by no no è in salotto è vicino alla basur ma è acceso o spento a basur è spenta no il videoregistratore il videoregistratore acceso da me da due giorni che acceso dunque acceso quindi potrebbe essere un problema di trascinamento del supporto che tipo di supporto usa di solito pronto che tipo di supporto usa di solito è il supporto è un tavolino rotondo marrone intarsiato con decorazioni floreali con decorazioni floreali no non il tavolino parlo di supporti magnetici che tipo di cassette usa alle cassette uso più che altro supporti porno più che il contenuto mi interessa la durata la durata non so perché non ne vedo mai fino a fine perdo i pezzi ma non è per colpa mia se una cosa non la usi e non funziona il politicamente corretto è la rivincita dei presuntuosi perché arrendiamoci all'idea gli stupidi esistono e siccome anche loro hanno dei diritti noi gli stiamo dando il diritto di decidere cosa è bene fare e cosa no non dico che serve a fare un corso per capire quando una parola o un'espressione venga detta ironicamente e quando invece vada presa sul serio ma quasi quasi magari dei bei test quelli facili con le crocette giusto per capire se sei proprio tu che non ci arrivi e che non sia proprio grazie alla tua idiozia che il mondo si sta riempiendo di indignazione a cazzo grazie a tutti